Per l'attacco si parla anche di Gabbiadini? L'attacco vediamo un po', Gabbiadini è un buon giocatore, ora vediamo l'evoluzione di Ovetic, tutto parte di lì, perché se rimane lui, perché ci abbiamo pepito Rossi, non ci dimentichiamo questo. Quindi l'evoluzione di Ovetic aprirà degli spiragli inaspettati, quindi Gabbiadini potrebbe essere uno. Certo, chi ha fatto bene quest'anno è candidato a vestire la maglia viola, ma chi ha fatto molto bene? Gabbiadini è uno di questi. Pasqual verrà confermato come capitano? Penso di sì, anche se c'è qualche scricchio lì o c'è qualche richiesta, però Rizzato, il suo procuratore, mio amico, mi ha detto che sta qua, quindi certo se rimane lui il capitano, perché credo che se rimane farà il titolare, quindi se dovesse rimanere farebbe il titolare, quindi perché togliergli la fascia, l'ha meritata specialmente quest'anno.